Il corso di dottorato offre una posizione per lo svolgimento di un progetto di ricerca nell'ambito della tossicologia riproduttiva. Infatti è con allarmante preoccupazione che veniamo sempre più spesso avvertati sull'impatto negativo dell'inquinamento ambientale sulla fertilità sia maschile che femminile. Il progetto pertanto ha l'obiettivo di studiare gli effetti di alcuni di questi contaminanti sulle prime fasi della riproduzione. Utilizzando il modello animale come sentinella dell'esposizione umana verrà determinato l'accumulo di queste sostanze nelle varie sedi dell'apparato riproduttore. Inoltre verranno effettuati dei test in vitro avvalendosi delle tecniche di riproduzione assistita per identificare i biomarker della tossicità riproduttiva nei gameti e negli embrioni. Il dottorando svolgerà la sua attività in collaborazione col nostro team del laboratorio di embriologia ma potrà effettuare anche periodi di ricerca in centri esterni. Rimango ovviamente a disposizione per ulteriori informazioni. Grazie a tutti.